Finisce in tribunale il caso del bimbo nato con l'utero in affitto dopo che il funzionario dell'anagrafe del comune Giulianova ha rispinto l'iscrizione. Questo perché in Italia la maternità surrogata è una pratica vietata, questo vuol dire anche impossibilità di iscrizione all'anagrafe comunale. Questa è l'equazione interpretativa formulata da un ufficiale di Stato civile del comune Giulianova di fronte al caso di un minore nato con il cosiddetto utero in affitto in Ucraina. Ed è sulla correttezza di questa applicazione normativa che sarà chiamato presto a pronunciarsi il Tribunale Civile di Teramo. Di fronte al diniego infatti i genitori supportati dal loro legale hanno citato in giudizio l'amministrazione comunale che in persona del commissario straordinario Eugenio Soldà si è costituita. In Italia il cosiddetto utero in affitto non è previsto da nessun tipo di norma. Il legale della coppia ha ritenuto di ricorrere al giudice e noi ci siamo costituiti attraverso la nostra avvocatura civica. Logicamente aspettiamo anche noi con interesse quello che sarà il giudizio del Tribunale che però è sempre previo anche parere della Procura della Repubblica che è stata interessata. Logicamente tutti i problemi di questa natura etica vanno affrontati con molta attenzione perché non è una scelta facile da farsi. Abbiamo avuto ultimamente parecchi altri casi di natura etica dove sono stati dibattuti fortemente in Parlamento. Le norme non esistono, ripeto, dell'utero in affitto. Ha fatto benissimo la nostra funzionaria a rigettare. Per me hanno fatto pure benissimo l'avvocato della coppia a rivolgersi al giudice. E noi siamo in dolce attesa.